segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te salve salve buon 25 aprile a voi ecco liberazione lei ci conferma essere festa della liberazione non libertà sì 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 la liberazione è molto diversa dalla libertà la liberazione è un processo è un processo attivo in cui si interviene da protagonisti liberazione non è un evento non è il 25 aprile liberazione tutta la resistenza è un processo all'interno del quale l'italia prende consapevolezza di se stessa è un processo all'interno del quale i partigiani guardi una cosa che viene sempre sottovalutata fare il partigiano non era soltanto una scelta politica ideologica militare era una scelta esistenziale chi andava in montagna rifondava se stessa come persona dopo vent'anni di credere obbedire combattere gerarchia disciplina obbedienza conformismo plebisciti marce marce reali tutta una una paccottiglia che di obblighi di dipendenza finalmente ti riappropriavi della tua sovranità individuale questa è la pagina del partigiano johnny all'interno del quale johnny si si riappropria della propria sovranità e si sente potente come non lo è mai stato soltanto perché finalmente riesce a testimoniare la sua volontà e non quella degli altri questa è liberazione e guardi io ai miei allievi cito sempre una scena della notte di san lorenzo un vecchio film dei fratelli italiani quando i partigiani vanno in montagna e scelgono il nome di battaglia lo scelgono per motivi di clandestinità per motivi di ovvia prudenza legalitaria però lo fanno anche perché chiamandosi tarzan chiamandosi nibbio chiamandosi volpe è come se rifondassero se stessi e come se fossero quello che finalmente possono essere e avrebbero sempre voluto essere ecco questo è il segreto della resistenza e della liberazione che si perde soltanto appiattendo questo processo sull'idea di libertà libertà certamente sì ma liberazione fondamentale se vogliamo capire l'essento della resistenza luna lei luna lei